Il 64,3% delle pensioni ha un importo inferiore a 700 euro e questo è un dato importante. Sì, purtroppo noi paghiamo lo scotto di aver avuto, storicamente, salari bassi rivenienti dagli anni 60 in poi da settori di lavoro come agricoli, artigianali, eccetera. Per cui è chiaro che a salari bassi corrispondono contributi bassi e quindi pensioni altrettanto bassi. Questo fino a un certo punto per la mia generazione. Le generazioni, subito dopo la mia, invece la situazione è cambiata perché è stata la precarietà del lavoro che ha determinato una minore contribuzione e una minore prestazione pensionistica. Purtroppo sarà sempre peggio perché se pensiamo alla legge Fornero, se non la dovessero modificare, noi avremo che voi giovani, e noi ci stiamo battendo per questo, non sembri piaggeria, insomma, l'ho detto là dentro, noi giovani, voi giovani rischiate di prendere una pensione sociale. Cioè a dire che uno rischia di dire a previsco non andare a lavorare, essere nulla tenente e quando arriva l'età prendo la pensione sociale. A questo siamo arrivati, se non si cambia la legge Fornero. Quindi l'impegno di tutti, e noi come sindacato lo stiamo mettendo soprattutto pensionati, ma anche di tutto il sindacato, è quello di puntare a cambiare questa maledetta legge Fornero.